Il 14 ottobre a Caccamo c'è una grande festa! C'è la Sagra della Salsiccia! Centinaia di professionisti all'opera accenderanno grigliate stratosferiche per cucinare la salsiccia più buona che c'è. Domenica 14 ottobre i nostri monumenti saranno tutti visitabili. Non mancherà la buona musica e sfiziosi prodotti tipici da degustare. La Sagra della Salsiccia! Tutti i colori e i sapori di Caccamo, domenica 14 ottobre, in un'unica grande festa. La Sagra della Salsiccia, l'originale! Caccamese!